Buono del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, così si è elevato a Gesù Cristo. Questo è il San Pio X, di cui sappiamo la Salva raggiunge anche il suo paese di nascita di Iese, 30 km da qua, è un momento in più di festeggiare il Santo Papa Veneto e dopo San Pio V il Papa canonizzato, poi le altre auto canonizzazioni le lasciamo in disparte. Ebbene, giustamente Santa Madre Chiesa applica a San Pio X il Vangelo e Sant'Agostino, in semplici parole spiega il pastore, e per quanto più il pastore dei pastori deve vascolare le pecorelle di Gesù e non le proprie pecorelle. Caro fratello, queste sono parole che valgono in special modo per i pastori a qualsiasi livello, è molto facile pascolare se stessi e negli altri. Dunque, questo insegnamento di Gesù Cristo, questa è la messa alla prova di San Pietro e di grande insegnamento per i successori di San Pietro e per tutti quelli che in un modo o in un altro partecipano al governo della Chiesa. Le pecorelle non sono le nostre pecorelle, le pecorelle sono le pecorelle di Gesù Cristo e gli agnelli la stessa cosa, dunque non solo i fedeli, ma gli stessi anche i pastori, tutto il clero non è la pecorella del vescovo diocesano, il clero, e i vescovi del mondo non sono i vescovi del Papa, ma tutti quanti sono pecorelle e agnelli di Gesù Cristo e il successore di San Pietro ha il compito di pascere, reggere, governare, santificare le pecorelle e gli agnelli di Gesù Cristo, non farsene le proprie, a limite anche poi togliendo Gesù Cristo di mezzo, quello senza adentrarci, che in termini molto semplici oramai passati dopo troppi decenni, dobbiamo purtroppo constatare che, come disse l'annato fondatore della Spartanità San Pietro X Monsignor Marcelo Ferro, la Chiesa ufficiale a Roma non è più la Chiesa visibile fondata da Gesù Cristo. non hanno più seguito l'ordine di Gesù Cristo di pascere nessuna nere e nessuna pecorella e con questo, cari fedeli, mettiamo in disparte oramai tutta questa tematica. Non stracchiamoci le vesti per un presunto vescovo che dà in mano a un sultano una particola che questa se la mette via e se ne va, non stracchiamoci le vesti, piangiamo senz'altro, perché il ricordo è troppo grande di quello che fu, fatto in quei luoghi dove questi scempiano il luogo, ma facciamoci una ragione, non è la Chiesa cattolica. Succedono tremende cose ovunque, invece vedete per quanto queste occasioni della festa di San Pietro X per tanti anni erano anche un'occasione per fare il punto della situazione. Spesso percorrevamo appoggiandoci a grandi studiosi, aspetti anche politici, economici, demografici, tante volte l'abbiamo fatto in questa sede, in questa sede vi ricordate quando parlavamo da un esempio della presunta problematica demografica, quando abbiamo sfatato il mito che siamo in troppi su questo mondo che non è vero affatto, anzi troppo pochi, io ne voglio di più e tante altre tematiche. Abbiamo per tanti anni studiato sistematicamente l'opera della massoneria alla distruzione oltre che dell'ordine soprannaturale anche e prima ancora l'ordine naturale. In tante occasioni abbiamo trattato queste tematiche. Abbiamo visto come dunque questo odio e la conclusione poi alla quale si arrivava di Satana verso Dio, verso Gesù Cristo, verso la creazione, verso tutta la sua chiesa, pervadeva nel corso dei secoli ambiti sempre più stretti, sempre più fitti, partendo dalla religione, alla politica, alla realtà sociale, economica e ormai domestica e individuale. Anche lì penso vi sono dei studiosi che in un modo egregio hanno analizzato tutte queste realtà. Non per ultimo avevamo l'anno scorso anche esaminato, esposto, anche criticato le analisi di Monsignor Ligano. Avevamo trovato comunque uno spirito estremamente lucido nell'analizzare tutta la questione anche della terapia genica, anche la trappola inevitabile per un paese all'est tratta da un altro paese a ovest. Ma vedete, alla fine, in tutti questi lunghi anni, penso anche ai convegni di Rimini, all'epoca quando la sacerdontalità sacerdale, San Pio X, ancora in seguito il suo fondatore, era decisa e fondativa e coraggiosa affrontatrice di queste realtà, di tanti convegni, di conferenze anche fatte con i relatori qui presenti. Alla fine a che cosa si concludeva? Si concludeva sempre, non esiste un problema economico che non sia un problema sociale, non esiste un problema politico che non sia anche un problema economico e sociale e soprattutto non esiste un problema politico vero che in ultima analisi non sia un problema teologico. E quando eravamo là avevamo sempre riconcluso. Dunque, quello che è in gioco è Dio, la salvezza della nostra roba, è l'odio di Satana contro Dio e il desiderio di Satana di acquisire le anime che ancora sono libere e che possono salvarsi. E perciò finivamo sempre questi convegni, queste conferenze, oltre che con la preghiera, con il sacrificio della Messa, perché qua avevamo realmente la vittoria di Dio su Satana. Questa vittoria è stata espletata in un corpo umano e in un'anima umana, da un uomo che ha il convegno della Dio e Gesù Cristo. Perciò, cari fedeli, in questo oggi voglio trattare non l'analisi di quello che sta succedendo e che è successo nel mondo, non fare carrellate storiche e degli sviluppi di tutte queste realtà di cosa ho parlato. Io voglio darvi subito l'arma, l'arma non segreta, l'arma pubblica, l'arma che potete portare, sapete, ho conosciuto i sacerdoti in Albania, quelli che sono stati arrestati e incarcerati per decenni e mi dicevano, veniva la polizia, in casa, con la metagliatrice, ci toglieva tutte le immagini sacri, per cui si va tutto. E mi diceva, fa Don Simonio Vani, io gli ho chiamato indietro e gli ho detto, tu hai dimenticato una croce, grande, dove è la croce qua? Eccola qua. Questa non la puoi portare via, solo che a lui l'hanno portato via. L'arma, la vera arma, non segreta, anche se misteriosa, la vera arma e spirituale. E come abbiamo appena visto, è il Cristo con la sua divinità e lo strumento dell'umanità che sconfigge Satana, così come l'ha sconfitto due mili anni fa, così vuole continuare a sconfiggerlo giorno per giorno nei suoi membri, nei membri del suo mistico corpo che siamo noi. Quale dunque, e cominciamocene, la grande arma che vince il modernismo, diciamo la totale perversione della mente. Sapete, se qui dovessimo esaminare cosa significa la perversione della mente, anche del ragionare umano del modernismo, scopriremo che la pazia assurda di un uomo che si vuole fare donna e di una donna che si vuole fare uomo è, è dir poco, in paragone alla perversione mentale della cosiddetta filosofia moderna, che è vecchia come la perversione di Satana. San Piudecimo è ci che ce lo dice, il vero antidoto, il trionfo sul modernismo, ce lo dà lui, ma non solo, lui dice vi do anche l'arma che sconfigge è il socialismo, non il socialismo nel senso di una delle tante partite di sinistra, no, il socialismo nel senso di socialismo politico perciò, come dicevamo, il socialismo teologico, il socialismo di Proudhon, quelli che fondono il socialismo sul fatto che è Dio il colpevole del male nel mondo e perciò dichiaramo guerra a Dio e una volta ucciso Dio non c'era più il male nel mondo, più perversi di così, oltre che ridere fa piangere, San Piudecimo ci dice io vi do, io vi do l'arma per sconfiggere non solo il modernismo ma il socialismo. ebbene mi sono deciso, cari fedeli, in poco tempo di consegnarvi questa arma, ci vuole però il portodarmi nel battesimo e poi ci vuole l'allenamento e siamo arrivati, dice San Piudecimo Esercizionum Spiritualium 8 dicembre 1904, abbiamo sempre tenuto in grande considerazione l'attitudine agli esercizi spirituali e non potreste certamente fare un'opera migliore per soccorrere il popolo oggi esposto a così grandi pericoli. Il metodo di Sant'Ignazio è particolarmente adatto a prevenire le menti e i cuori dalle insidie nascoste del modernismo e a non lasciarsi ingannare dalle menzogne dei socialisti. Come lui, era solito, le sue parole sono molto chiare, molto semplici, alle quali aggiungo prima di esporvi brevemente e spiegarvi l'utilizzo di questa arma, quello che diceva Pio XI, Meditantibus Nubis il 3 dicembre 1922, Sant'Ignazio ritiratosi nella grotta di Manresa, ammaestrato dalla stessa Madre di Dio, nell'arte di combattere le battaglie del Signore, ricevete come dalle mani di lei quel perfetto codice di cui deve far uso ogni buon soldato di Gesù Cristo. e si legge in nota la storia e tutti i papi, da Paolo III, 1548, a Pio XII, mostrano, attenzione, e questo per noi è di grande importanza, anche di incoraggiamento, mostrano che tutto ciò che è stato fatto di grande in questi ultimi quattro secoli è stato stimolato dagli esercizi. Questi non sono un metodo di una scuola di spiritualità, ma un mezzo universale e irresistibile per tutti. il XI, dopo l'XIII, cita come prova i più illustri nomi della geografia moderna e potremmo fare una lunga lista. Poco di noi che non realizziamo che quello che fa sì che l'Europa non è ancora musulmana, grazie a questi esercizi spirituali. Carlo Borromeo ha santificato la gran parte dell'Italia grazie a questi esercizi spirituali. La grande Spagna Cattolica ha resistito grazie a questi esercizi spirituali. Dunque, permettetemi di esporvi brevemente il succo di questa arma spirituale per riuscire con la grazia di Dio a convincervi di volervi arrombare e combattere effettivamente. E' una battaglia spirituale nella quale non si fanno chiudere. Perché il nemico non è una persona. E' il peccato, e' il vizio, e' l'errore. E quello va distrutto totalmente, come altri piace fare la guerra, distruggendo totalmente case uomini. A noi non piace. A noi piace la guerra spirituale, e' l'errore, il vizio, in se stesso, l'estirpa totalmente, sono gli esercizi spirituali, cari fedeli, di Sant'Ignazio di Noiola, che in modo molto semplice lui spiega, espone, e introduce con la semplicissima dicitura, esercizi spirituali per vincere se stesso, e ordinare la propria vita, senza essere determinato da alcun difetto, affetto disordinato. Perciò fare, lui, da' una regola molto precisa, un metodo molto preciso, che allo stesso tempo e' estremamente elastico e ampio. e dice, per gli esercizi spirituali, si prendono quattro settimane, corrispondenti alle quattro parti, nelle quali si dividono gli esercizi spirituali. Infatti, sono quattro parti. Nella prima, la considerazione e la contemplazione dei peccati. ecco i veri nemici. Il vero nemico e' il peccato. Il vero nemico e' l'errore. Il vero nemico e' il vizio. Nella seconda settimana, la vita di Cristo, nostro Signore, fino al giorno delle palme compreso. Nella terza, la passione di Cristo. Nella quarta, la realizzazione, ascensione. E poi, con l'aggiunta dei modi di fare orazione. Così, cari fedeli, l'allenamento consiste in una prima settimana, che può essere di sette giorni, come anche di un giorno, che può essere anche prolungata a tre settimane. Lì, il sardignaccio e' molto molto elastico, si adatta a ogni anima. I famosi esercizi spirituali, predicati, pur ora, anche dai sacerdoti, del mio amato, con i consigli. Il sottoscritto con il confrattello, donna Josef, li predicherà in dicembre, in lingua tedesca, e speriamo poterlo fare anche qua, trovando la struttura in lingua italiana. Con questi esercizi, in una prima settimana, ripeto, molto, molto, molto elastica, considera dunque, medita, il peccato, impara a fare un vero esame di coscienza. Considera i famosi tre peccati, quello di Lucifero, il paccato di Adamo e Eva, e il proprio peccato. Vi e' poi, il grande momento, della meditazione, sull'inferno. sapete, San Pio X, a giusto titolo, dice che è l'antidolo al modernismo, perché, gli esercizi spirituali, sono molto realisti. Considerano le cose, e poi applicano i sensi, la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, a quello che meditano. e non è poco santare, meditare l'inferno, credito, più di un'anima salvata, ringrazia, e gli si è ricordato che cos'è l'inferno. Quella prima settimana, poi si medita, coraggiosamente, ci si mette davanti, coraggiosamente, alla morte, al giudizio personale, quando io appaio davanti a Gesù Cristo. E poi al giudizio universale, quando c'è il conguaglio per tutti, il male che io ho fatto, e le sue conseguenze, dopo di me, anche io morto, e devo pagare le conseguenze. per concludere quella settimana con una meditazione sulla misericordia divina per tenere sempre l'equilibrio e non cadere in disperazione o scoraggiamento per il quale in parole molto semplice lui proporre a meditare Dio ci ama di un amore misericordioso infinito. Le nostre mancanze sono per questo più colpevoli tanto più è amorevole che l'amore di Dio. L'amore esige confidenza, non aggraviamo le nostre mancanze dobitando dell'amore di Dio per noi. Il Sacro Cuore di Gesù immagine dell'amore infinito di Dio per noi. E così si conclude questa prima settimana dopo di che si inizia a meditare sull'incarnazione, sulla nascita, sulla rappresentazione al tempo del lesbio e bambino, l'infanzia del nostro Signore Cristo e due momenti che poi sono di massima importanza in applicazione alla nostra vita. D'un lato l'obbedienza, la sottomissione di Gesù bambino ai suoi genitori quando li porta a casa e rimane loro sottomesso e obbediente in tutto fino all'età di 30 anni e al contempo Sant'Ignazio fa meditare la libertà che si prende Gesù. Io non vi dico niente. Io sto qua. Io rimango nel Tempio. Ma non lo dico neanche. Perché non ce lo dici? Io devo stare alle cose che sono mio padre. Per quanto riguarda la natura tutto il mio sono sottomesso lo sono ancora. Ma per obbedire al mio padre non ho bisogno di debilmente. Il sano, il vero, distacco anche da genitori per seguire la via, la volontà segnata da Dio per la nostra vita soprattutto se si trattasse di una vocazione spirituale. Vedete? Questo per ordinare la propria vita ma non secondo concetti così che io poi mi faccio nella mia testa imitando Gesù Cristo. Ecco perché in questa settimana vi è quel grande momento che si chiama l'elezione dove se non sono sposato se ho ancora tutta la vita davanti a mia davanti a me valuto cosa faccio io della mia vita. Mi consacro a Cristo fondo una famiglia cosa faccio io della mia vita. Io sono in questo mondo per conoscere amare e servire Dio quali sono i mezzi che ho a disposizione quali sono i miei doti come li impiego cosa faccio. O voglio continuare così a vivere nella giornata prendendo tutto così come capita. E no. Io devo prendere in mano la mia vita. E se sono già sposato e se sono già consacrato a Dio ripenso bene come sto vivendo il stato della mia vita. Lì anche che si medita poi il standard di Cristo non si ricorda e non si immagina a Giuselemme come chiama tutti a sé invece di Lucifero che in Babilonia chiama i malvagi a sé. Ed è così che si meditano vedete le tre le classi di persone che esistono per vedere di chi si fa parte meditando di tutto quello più a disposizione meditando di come voglio impiegare tutti i miei mezzi tutto quello che ho per raggiungere il mio fine si farà meditare su tre classi di persone che sarebbero presentate così dal santo e la storia che servirà di base alla meditazione supponiamo dice supponiamo qui tre classi di uomini ciascuna delle quali ha guadagnato diecimila ducati non puramente e propriamente per l'amore di Dio e vogliono tutti salvarsi e trovarsi in pace con Dio nostro Signore togliendosi di dosso il peso e l'impedimento dovuti all'attaccamento alla cosa acquistata hai guadagnato diecimila ducati chiederteli non ti chiedo di toglierteli ti chiedo molto di più devi fare tutto per togliere l'attaccamento ai beni che hai ricevuto e a tua disposizione poi si vede me stesso alla presenza di Dio nostro Signore e tutti i Santi per desiderare conoscere ciò che è più gradito alla Divina Volontà poi domando quello che desidero sarà chiedere grazia per eleggere quello che sarà a maggior gloria di Sua Divina Maestà e più utile alla salvezza della mia anima vi rendete conto che altro scenario una mente umana che considera quello che fa quello che ha con l'intento e il desiderio di fare la volontà di Dio forse ci scopriamo quotidianamente molto lontani dalla preoccupazione di piacere a Dio con tutto quello che faccio e con tutto quello però estremamente informati se è vero che i russi fin là invece i ucraini fin là se è vero che sono i droni o non i droni che hanno battuto o non hanno battuto chi ha vinto di più chi ha vinto di meno le false notizie siamo assetati e interessati giorni e notti a sapere le notizie le notizie le notizie ma se io questo lo faccio per la più maggior viola di Dio no, no oh, sì beh, sì oh, non so ma siamo disarmati guarda la seconda classe vuole lasciare l'affetto ma ha condizione di mantenere la cosa posseduta così che Dio venga là dove lei vuole anche questo esiste no, no io sono molto attaccato a tutto quello che ho e che sono e desidero che Dio mi venga dietro perché intanto non è mica cattivo quello che ho e che faccio però lui deve venirmi dietro ah, oh io sì credo in Dio però Dio deve fare come dico io io devo guarire io devo diventare sano io devo passare l'esame devo raggiungere questo posto del lavoro e allora mi va bene vai se non va bene a Dio allora non va bene a Dio e ci si rivolta come è possibile che Dio ha permesso che io adesso mi sono amato la seconda classe di persone non me la meravigliate uno su tre così secondo Sant'Ignace la terza classe vuole lasciare l'affetto ma in tal modo da non avere affezione a conservare o abbandonare la cosa acquisita e vedete questo è il grande momento di Sant'Ignace la sante di indifferenza perciò è lodato da tutti i fatti perché questi esercizi queste regole che dà sono di una saggezza incredibile va agli estremi senza oltrepassarli e tiene sempre nella misura lo vedremo ancora in un altro momento cioè nella terza settimana quando si medita la vita di Gesù Cristo per ordinare la propria imitando Lui quando si medita l'ultima cena la passione le gruces la morte e la sepoltura e lo si fa sempre nel vivo intento di riordinare la mia vita imitando Gesù il tutto accompagnato dalla preparazione di una molto accurata confessione generale nella quale mi esamino in parole opere e pensieri su tutta la mia vita percorrendo tutti i luoghi dove ero tutto quello che ho fatto nell'intento di ordinare la mia vita per servire Dio conoscerlo e poi goderno nella vita eterna così si nella terza settimana si medita la passione di Cristo e vedete qua con Sant'Ignazio diventiamo un po' più completi contrariamente passione di Cristo vuol dire penitenza espiazione soddisfazione dei nostri peccati passione di Cristo vuol dire sofferenza fisica e psichica nel senso non che lui avesse difficoltà psichiche ma nell'anima l'anima ha sofferto il corpo ha sofferto e in virtù delle sofferenze di Cristo che sono stati espiati i nostri peccati lo ripeto questa è l'arma che distrugge il modernismo distrugge il modernismo di Eratzinger che piange della deviazione della devozione che lui trova ancora nelle vecchiette in Germania che credono che Gesù Cristo ci abbia salvati per il dolore lui dice nella prossima reforma liturgica chiederò che sarà molto in questo aspetto e la oltre la nuova messa non va da più i sacrifici espiatori e profissiatori della messa e questo lui lo scrive prima della reforma liturgica questo è il modernismo questo è il nemico l'errore non diosefarsi al quale auguriamo la salvezza questo è il male da sconfiggere è totalmente sconfiggere perché è una perversione oltre che un contraggio infinito a un Dio che si fa uomo e nella croce nel versante il sangue ci salva e tu pretendi essere Papa negando questo ma vedete ci intervogliamo contro questi errori che facciamo bene ma negli esercizi quella terza settimana chiedono e tu qual è la tua imitazione in questo punto qual è la tua passione qual è la tua penitenza che ti sei imposto tu o è una penitenza mentale che ti piace ricordare magari comprare un bel quadro barocco dove si rappresenta magnificamente il Cristo nei dolori per ammirarne la benedza artistica però qual è la tua penitenza nella prima settimana e qui facciamo veramente ci andiamo molto nel pratico cari fedeli perché voglio non parlarvi di un'arma ma darla proprio in mano perché potete anche utilizzarla nella decima addizione della prima settimana vi parlo della penitenza la penitenza che si divide in interna ed esterna interna e dolersi dei propri peccati con il fermo proposito di non ricadere più in quelli negli altri l'esterna iniziamo intanto con l'esterna è frutto della prima e consiste nel castigarsi per i peccati passati e si pratica principalmente in tre maniere la prima riguarda il mangiare qui notiamo che quando lasciamo il superfluo non è penitenza è temperanza è penitenza invece quando lasciamo del conveniente e quanto più ne lasciamo tanto più è grande e migliore la penitenza o grande saggezza purché non venga danno alla persona e non ne segua ha potuto fare bene infermità notevole in testo italiano vorrebbe dire la penitenza nel mangiare ha come normale conseguenza che ti riduce all'infermità poi quando diventa notevole è troppa magari mangi non prena più questo è penitenza a me mamma io senti poco benissimo allora allora semmai sei misurato ma non fai penitenza io sto parlando dell'arma che sconfigge modernismo e socialismo mondialismo tutti con i nomi con i nomi questa è l'arma che sconfigge la seconda riguarda il modo di dormire valimenti non è penitenza lasciareci perfumore le cose che lusingano la nostra delicatezza e sensualità vale per tutti anche per i consagrati non solo per i studati ma è penitenza quando nel modo di dormire si toglie del conveniente e quanto più tanto meglio purché non ne venga danno alla persona e non esegue infermità notevole infermità focure segure né tantomeno si lasci del sonno conveniente se non quando si avesse abitudine viziosa di dormire troppo per arrivare alla giusta visura mangiare e dormire la terza è castigare il corpo infliggendoli cioè dolore sensibile poi lo dice però che non deve andare fino alle ossa e non indefinitare troppo noi purtroppo vediamo l'islam è stato vinto con queste impiedenze il comunismo dittatoriale della sua più ferocia e misura ci è stato risparmiato finora dopo la secola marmo mondiale grazie a queste impiedenze vogliamo liberarci della dittatura mondiale che ci sta toliendo tutto questo è l'art viene praticata da tutti nel mangiare nel dormire e nel corpo vale per tutti esiste un modo misurato di mangiare esiste un modo misurato di dormire esiste un modo legittimo e misurato di usare il matrimonio esiste anche un modo esagerato di mangiare e di usare il matrimonio una volta che ho regolato a moderazione e giusto non ho ancora iniziato a fare più inizio mercoli delle cennere lo sposo abbandona il palmo dov'è questo senso di prevenzione dov'è la realtà la sete il desiderio in noi di questa prevenzione dov'è il desiderio di voler vincere con Gesù Cristo le mire dei gates dov'è sul cellulare in uno sfogo di rabbia malgale sconce dov'è non c'è noi ci meravigliamo che il male avanza sempre e non ci meravigliamo che noi il bene non lo pratichiamo ci contentiamo di constatare l'analisi del male ma il bene con tutto quello che richiede che fa non lo facciamo questa è la ragione per la quale per i fedeli forse sono punito per aver aspettato conosciuto così tardi di darvi in mano queste armi spirituali senza altro negli anni passati abbiamo fatto grandi analisi coraggiosi analisi che ci valevano anche persecuzione e tutto ma io devo bascere le pecorelle di Gesù Cristo e Gesù Cristo le sue pecorelle le vuole come lui vuole pecorelle che fanno penitenza che accese di amore verso il Padre verso il Dio disprezzano talmente che anche volentieri rinunciano per così dire a mangiare e a dormire con un Cristo che passeva la notte intera a aveviare e spero di non deludervi con questi discorsi si può dire spirituali no mi sono ben convinto di non pur dirlo dopo decenni che si pensava veramente adesso qua questo fa una buona battaglia adesso con questa battaglia qua contro questo quest'altro esso che le chiamo andiamo a volantanare anche noi perché la gente deve capirlo dobbiamo svegliare e poi siamo in movimento e poi andiamo all'urna poi prendiamo il potere poi prendiamo tutto un'illusione puerile come l'illusione di certa fratellità che pensa di poter entrare nella controchiesa per farne poi la chiesa come se la chiesa non fosse già stata fatta e quella controchiesa è semplicemente uscita dalla chiesa dobbiamo diventare realisti noi senza vera penitenza che inizia sul nostro corpo nel nostro piatto nel nostro letto non arriviamo da nessuna parte Fatima ha impedito e ha terminato la prima guerra mondiale ma erano tre bambini che letteralmente si maceravano dunque non c'è scelta per noi per noi per noi innanzitutto se non seguire questa strada che i papi tutti da Paolo III fino a Pio XII incluso hanno dichiarato essere il miglior metodo e Pio XII ha risposto alla obiezione perché già si faceva l'obiezione sì però il Settecento era un altro secolo la gente poi anche era più vigorosa era più forte e poi non bisogna adattarsi ai tempi non si può sempre chiedere tutto a tutti allora Pio XII risponde e con questo chiudiamo non è certamente vero che questo metodo abbia perso efficacità e non corrisponda più alle esigenze del uomo moderno e certo uno dice come io devo mettere un silice cioè devo prendere una cordina per flagellarmi ma questo lo vedo nel film non lo faccio mica io ma tutto qua quello che devi castigliare non muovono mai anzi è una triste realtà che il liquore perde vigore quando viene diluito nelle acque in colori della super adetazione e la macchina perde potenza quando vengono svoltate alcuni pezzi fondamentali dell'ingranaggio ignaziano con questo sfatta il mito Pio XII erano altri tempi adesso è il tempo dell'industrializzazione della macchinizzazione non si può più operare come operava Sant'Ignazio chiedendo la castità chiedendo il digiuno chiedendo la prisione questo è superato adesso bisogna è una guerra è una guerra intellettuale bisogna combattere le idee no no devi fare penitenza a tavola a letto e su un piatto e così avrai combattuto le idee e le hai vinte le idee paradossalmente perfino nella chiesa moderna gli ordini contemplativi severissimi hanno ancora tante vocazioni noi dobbiamo essere severi con noi stessi imbracciare questa arma e perciò vi invito a prendere il vostro taccuino e al più presto prevedere quando cadete vicino i giorni degli esercizi spirituali e spero molto che l'anno prossimo quando prestigiamo di nuovo San Pidecimo se Dio vuole una gran parte avrà fatto gli esercizi spirituali Dio volendo ci diamo da fare e si troveranno le strutture anche di farle in Veneto che per intercessione della Santa Vergine Maria di San Pidecimo questo possa farsi anche con l'altro aiuto nel nome del Padre e del Figlio che ci possiamo per così sia se è arrivato Gesù Cristo di San Pidecimo di San Pidecimo di San Pidecimo Grazie a tutti